Io penso che comunque sia una cosa principale che dovremmo renderci conto e sicuramente ci sono i momenti di ognuno di noi nel nostro pensiero, nella nostra vita, sicuramente di difficoltà che possono essere a livello materiale, di una perdita di una gamba, delle gambe, dell'utilizzo delle gambe oppure della perdita davvero di tante funzioni del nostro fisico. Però c'è da partire da, ora ecco prima hai detto una cosa giusta, anche chi è che non ha disabilità probabilmente a volte si ferma davanti a qualche ostacolo. Allora bisogna partire secondo me da un punto principale che è il punto cardine, dal regalo principale che ci è stato fatto, la vita. La vita è soltanto un regalo che noi ne possiamo assaporare le emozioni vivendola giorno dopo giorno con le persone con cui siamo bene e quindi condividerle tutte queste cose. Ora se abbiamo la vita vuol dire che abbiamo tutto, poi certamente le difficoltà ci sono in qualsiasi tipo di vita, però le difficoltà devono esserci per poco tempo perché finché c'è la vita c'è sicuramente tutto e noi non possiamo abbatterci per qualsiasi cosa, anche per un raffreddore oppure per un problema che possiamo avere materiale quotidiano. Vengono sicuramente superati e la vita è quello lì che ce lo debba fare o fare. Poi il pensare che ci sono delle persone addirittura che non hanno avuto neanche la possibilità dei bambini, neanche la possibilità di viverla e di assaporare la vita, neanche per un mese, per un anno, due anni. Noi siamo fortunati, io mi ricordo una persona fortunatissima a poter vivere nel modo migliore in cui sto vivendo. Le mie difficoltà possono sembrare grandi, ma vi posso assicurare che sono pochissime, ma soltanto probabilmente per un fatto di rendersi conto di quello che mi è stato regalato, la vita. E poterne parlare a voi è sicuramente una cosa importante, e poterlo dimostrare probabilmente, probabilmente uno si può dimostrare, ma Gianni guarda un po' che combina con le stampelle, con la bici. No, Gianni combina una cosa davvero normalissima, immaginate tantissime persone che probabilmente non vogliono spingersi oltre, ma soltanto per il motivo perché pensano che possono farcela, invece no, bisogna prendere sicuramente in mano la propria vita e cercare di farla sbocciare nel modo migliore e mai cercare di non annaffiarla giorno dopo giorno, perché non facendo così non avremo sicuramente il piacere di annusarla.